questo programma è offerto da Pannolini, biscottini, latte omogeneizzati, c'è un po' di tutto nei supermercati per i nostri bambini, il bambino soprattutto piccolino è il principe della famiglia, ma quanto è importante il rapporto tra il bambino e i suoi genitori? Lo chiediamo ancora una volta all'esperta. In radio c'è un pulcino, in radio c'è un il pulcino, il pulcino pio il pulcino pio Ecco il nuovo numero di Convì Magazine Cucina, il porcino signore dell'autunno, in cucina i sapori della natura. Salute, quali sono i rimedi naturali contro il mal di schiena? Scoprilo con i tuoi farmacisti. Tempo libero, passeggiate a cavallo, un momento di evasione, lontani dallo stress. Lifestyle, anche l'albero di Natale fa tendenza, suggerimenti per un albero alternativo. Spazio motori, fari opacizzati, l'importanza della manutenzione e in più gossip, news, attualità, eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali, tutto questo ed altro ancora su Convì Magazine. Oh sugar, don't you cry. Hey child, wipe the tears from your eyes. You know I need you. Ba, ba, basura catà, ba, ba, basura catà. Tu che ne sai, la vista mai, basura catà iso ma mai. Tu che ne sai, la vista mai, basura catà iso ma mai. Tu che ne sai, la vista mai, basura catà iso ma mai. Ed ecco la dottoressa Ines Panessa, psicologo clinico, che io saluto, non posso saluto, anzi facciamo così. Facciamo così. Dottoressa, pannolini, c'è un po' di tutto per i bambini, però ovviamente noi parliamo di un altro punto di vista che non è quello commerciale. Quanto è importante il rapporto tra un bambino, tra un neonato e la sua mamma? Beh, effettivamente è importantissimo, soprattutto entro il primo anno di vita. Vale a dire che il rapporto madre-bambino comincia già nella vita embrionale, quando il bambino è in pancia. Molti pensano che il bambino non senta, non capisca e quindi pensano che non sia importante questa condivisione con la propria mamma. E invece è importantissimo, perché già dalla vita embrionale il bambino respira, mangia, vive appunto in pancia attraverso il corpo della mamma. Quindi apprende anche. Apprende anche. Infatti sono state fatte delle ricerche secondo le quali, insomma, i risultati di queste ricerche, secondo i risultati, descrivevano l'apprendimento della musica classica nell'embrione fin da subito, insomma. Nel senso che le mamme che si esponevano, le mamme gravide che si esponevano, le donne gravide che si esponevano appunto all'ascolto della musica classica, abituavano i loro bambini a questa specie di ninna-namna rilassante. Il neonato, una volta nato, era già abituato a questo comportamento appreso, a questo comportamento musicale appreso in età embrionale. Una volta nato, quanto è importante, dopo il taglio del cordone umbilicale, mantenere questo legame? È importantissimo soprattutto nel primo anno di vita, perché quel rapporto tra madre e bambino nel primo anno predispone poi alle relazioni future. Vale a dire che il bambino, futuro adolescente, giovane adulto, eccetera, impronterà involontariamente le sue relazioni con l'altro sesso, quindi sentimentali, amicali, eccetera, sulla matrice di quel rapporto che ha avuto durante il primo anno con la mamma. Chiaramente non possiamo ricordarci, perché anche noi siamo stati neonati, e non possiamo ricordare che tipo di rapporto abbiamo avuto. Il problema sorge quando il giovane adulto comincia ad avere difficoltà relazionali, per cui la difficoltà è superabile, ma è a quel rapporto che si cerca di risalire, per renderlo conscio, e quindi il giovane adulto prende consapevolezza di quel legame che ha avuto con la mamma, e quindi può risanare una relazione disfunzionale, che poi vedremo è il motivo per il quale diventa disfunzionale. È necessario che tra madre e bambino non solo si riattualizzi quel contatto simbiotico che c'è stato nella vita embrionale del neonato, ma che si arricchisca con l'affettività, con l'amore, con le stimolazioni. Poi vi spiego perché. Quindi non parliamo di bambini che già iniziano a comprendere per quello che pensiamo noi, cioè il bambino non comprende quando inizia a parlare, quando inizia a muoversi. Già dall'inizio inizia a comprendere, quindi è importante che questo rapporto si instauri sin da subito. Sin da subito. Il bambino, il neonato non parla, per cui bisogna chiedersi, ma come fanno a capirsi madre e bambino? Attraverso la comunicazione affettiva. Perché la mamma, che biologicamente è predisposta a comprendere il proprio figliolo, deduce dal tipo di pianto, dal tipo di sorriso, ciò che il bambino vuole comunicare. È una comunicazione, un rapporto empatico, perché il bambino non parla, non ci dice ho fame, non dice voglio dormire, non dice ho bisogno di coccole. È tutta comunicazione empatica. Ecco perché si dice che le mamme siano più predisposte alla comunicazione non verbale, quindi quella attraverso il corpo, attraverso il contatto fisico, l'abbraccio, lo sguardo. C'è un elemento che è un po' comune a tutte le famiglie, il bambino che piange e la prima cosa che si fa è il ciuccio. Allora si dà il ciuccio. Quanto è importante, è utile, ma soprattutto serve poi come deterrente per far star zitto il bambino o ci sarebbero altri metodi? Infatti il ciuccio è un'abitudine e rappresenta nell'immaginario psicoanalitico un sostituto affettivo, come quando il bambino succhia il pollice o come quando vuole nella culla per dormire un osso a chiotto, rappresenta un oggetto sostitutivo del sostituto materno. E' quello che insomma vediamo nei fumetti con la coperta di Linus, no? Sì, esattamente. E' proprio la coperta di Linus. Infatti le mamme che si ritrovano ad avere difficoltà quando devono fare addormentare i primi tempi il bimbo nella culla e quindi toglierlo dal letto potrebbero aiutarsi appunto con un oggetto affettivo sostitutivo che lei chiama coperta di Linus ma potremmo ugualmente parlare di orsacchiotto o anche di favole della buonanotte. Quelle sono molto importanti per esempio perché a differenza del ciuccio, dell'orsacchiotto o qualsiasi altro oggetto sostitutivo materno qual è l'importanza della favola? Che nel racconto della favola c'è un trasporto affettivo perché il bambino sente la voce della mamma e il bambino da sempre è esposto alla voce della mamma ed è l'unica voce che da subito riconosce in grado di calmarlo. Anche quando piange per esempio il bambino non tutti i neonati si tranquillizzano nelle braccia del papà, dell'anzia, della nonna perché riconoscono il calore delle braccia della mamma. Quello che gli etologi chiamano imprinting. Imprinting esattamente. Io ovviamente sono un uomo quindi mi chiedo quale sia il ruolo del papà perché abbiamo parlato sempre del ruolo della mamma che è giustissimo perché poi la mamma lo porta in grembo per nove mesi c'è questo rapporto è la prima persona che viene riconosciuta ma il papà che ruolo ha nella vita di un bambino soprattutto fino a un anno di vita? No, fino a un anno di vita è preferibile che il rapporto si instauri in maniera molto profonda e strutturata con la figura materna. Quindi gli uomini possono andare a giocare a bullying senza problema. Ci si può far aiutare perché si abitua poi il bambino ad un rapporto futuro con la figura paterna. Il papà entra in scena un po' più tardi infatti parleremo di triangolazione madre-padre-bambino e la triangolazione appunto con l'ingresso della figura paterna determina cosa? Anzitutto la differenziazione dei ruoli perché un ruolo molto importante del papà è quello normativo. Ha mai sentito parlare di persone tipo quando viene tuo padre fai conti con lui questo è giusto o sbagliato? Questo è giusto questo è giusto però detto in termini un pochettino più dolci nel senso che il padre il ruolo del padre è proprio quello di regolare e la figura normativa principe è quella che riesce secondo gli psicologi e gli psicanalisti un attimo a contenere le pulsioni del bambino questo ce lo dice anche la biologia perché la mamma è sempre quella più accogliente più comprensiva dico ce lo dice la biologia perché la donna è strutturata proprio biologicamente in questo modo il suo organo il lutero che è un organo tondeggiante accogliente e quindi poi anche a livello comportamentale proietta questa sua biologia l'uomo nella biologia il maschio degli animali chi è? è colui che difende il territorio il maschio alfa il maschio alfa è colui che difende il territorio e che provvede al sostentamento della famiglia nel rapporto affettivo con il bambino rappresenta il ruolo normativo ripeto però rapporto affettivo nel senso che se non c'è un valido legame tra padre e figlio è difficile che il bambino ascolti i consigli del papà o le norme che il papà cerca di inculcargli è sempre necessario un legame contraddirsi tra genitori cosa può comportare? allora se la mamma dice non mangiare il gelato e il bimbo va a chiedere al padre il padre dice ok mangio il gelato oppure il papà può dire mamma ha sbagliato fai come ti dico io? e non è molto opportuno questo non è molto opportuno perché il bambino entra in confusione il bambino ama in modo uguale ed è opportuno che sia così sia la mamma sia il papà ma anche i genitori devono fornire un equilibrio nel relazionarsi con al proprio figlio ecco tra di loro e al proprio figlio perché se la mamma cerca di impartire determinate regole e il papà altre squalifica il lavoro che ha fatto la mamma e il bambino entra in confusione e quindi si chiede cosa faccio ciò che dice mamma o ciò che dice papà oppure potrebbe fare pensieri tipo mamma è buona papà è cattivo e viceversa e non è opportuno questo questo può accadere almeno lo si nota ultimamente con i rapporti nei compagni delle istituzioni del maestro della maestra allora prima ecco ai tempi miei se io andavo da mio padre ma è insegnante anche lui maestro e dicevo papà la maestra mi ha dato uno schiaffo prendevo un altro schiaffo no? anche io perché giustamente la maestra aveva ragione adesso se la maestra ti dice A subito arrivano i genitori e la massacrano in un certo senso sì c'è ancora rispetto al ruolo delle istituzioni no diciamo e questo è deleterio certo questo è deleterio perché c'è un comportamento iperprotettivo dei genitori nei confronti dei figli e questa iperprotezione poi si riflette anche nell'istituzione scuola ma producendo quale danno la squalifica dell'istituzione scuola e della figura dell'insegnante anche io quando quando ero bambina se la mia mamma veniva ai colloqui e sapeva che non mi ero comportata bene a scuola beccavo il resto quindi non è anche mia madre insomma era così eh sì non è non è opportuno non è educativo equivale a dire l'insegnante non conta non è giusto ciò che ha detto l'insegnante ti difendo io certo piuttosto sarebbe meglio spiegare al proprio figlio dov'è l'errore far capire che ciò che ha detto l'insegnante è opportuno e valido per la sua crescita e quindi attivarlo nell'ascolto dell'insegnante non il contrario tutte queste belle cose che ci siamo dette possono essere attuate nel senso che i genitori possono far ricorso allo psicologo quando hanno questi problemi non si vive di SOS tata queste queste trasmissioni ecco probabilmente un supporto psicologico è più importante no? sì sicuramente come dicevo prima sia per le disfunzioni nel rapporto madre-bambino sia per la mediazione con l'istituzione scuola è importante perché nel primo caso per quanto riguarda il rapporto madre-bambino abbiamo già detto che se è disfunzionale se non funziona bene se il bambino è a contatto con una mamma depressa ecco per esempio si parla tanto di depressione post partum certo che va analizzata per certi versi ora non non voglio dilungarmi magari ne parliamo in un'altra puntata sì in un'altra puntata però in linea generale questo rapporto predispone alle relazioni future quindi ci si rivolge sin da subito allo psicologo facendosi facendosi aiutare se si ha più o meno la consapevolezza del problema o meglio senza pensare passerà da sola questa cosa è opportuno farsi aiutare non bisogna vergognarsi di farsi aiutare per quanto poi riguarda il giovane adulto cioè quel soggetto che ha avuto un rapporto disfunzionale quindi si trova in difficoltà nelle relazioni in età adulta anche è opportuno perché questo è superabile basta chiedere aiuto basta rivolgersi agli esperti che possono direzionare appunto l'affettività per quanto riguarda invece il rapporto tra genitori e istituzione scuola io sono di un avviso è necessario fare rete perché se oggi sentiamo parlare di tante difficoltà problematiche eccetera è anche perché non si fa più rete e quando diciamo l'insegnante cattivo ha sbagliato ha ragione tutti ha messo il brutto voto in quel momento non facciamo rete per cui è opportuno farsi aiutare magari dallo psicologo scolastico anche dal clinico per mediare questa rete così come l'ho chiamata e produrre dei risultati positivi perché solo questo tipo di collaborazione può produrre risultati positivi anzitutto per i vostri figli e poi per la futura società perché i bambini di oggi sono la società di domani perfetto un'ultima domanda questo è un periodo frenetico in cui chi ha la possibilità di lavorare la fortuna di lavorare la fortuna corre nel senso che è fuori è costretto a degli spostamenti un bambino cresciuto dalla tata o dai nonni cresce in maniera diversa rispetto a quello che invece può essere assistito alla mamma dipende dalla qualità dei rapporti perché i nonni sono importantissimi nel senso che sono un contorno ecco del rapporto tra genitori e figli sono importanti dal punto di vista affettivo ma non devono essere sostitutivi dei genitori perché appunto si rischia che il bambino si identifichi con la nonna e nei casi più gravi la nonna e il nonno chi che sia e nei casi più gravi la mamma potrebbe non riconoscerla io ho trattato diversi casi e mi sono trovata in queste situazioni laddove adolescenti non riconoscevano la figura materna perché cresciuti con la nonna sempre per quella regola dell'amore nel primo anno di vita cioè la nonna va bene ma deve essere compensativa rispetto alla presenza assenza della mamma che lavora e il genitore indipendentemente dal tempo che trascorre con il proprio bambino deve fare molta attenzione alla qualità del tempo trascorso perché si può trascorrere un tempo prolungato con il proprio figlio senza qualità per esempio guardando la televisione senza tenere minimamente in considerazione la presenza del proprio bambino e invece si può trascorrere poco tempo con il proprio figlio ma qualitativamente valido è importante la condivisione dello sguardo è importante la condivisione del gioco quindi va bene il divano la sera ma non va bene non guardare non condividere non parlare non giocare ecco questo volevo sottolineare questo è importante per cui per rispondere alla sua domanda va bene il supporto dei nonni va bene il supporto della tata ma questi supporti non devono assolutamente essere sostitutivi di una seppur minima buona qualità del tempo trascorso con la propria mamma perfetto noi ringraziamo come sempre la dottoressa Ines Panessa ricordiamo che per contattarci e per contattarla potete scrivere una mail televisione chiocciolaconvi.it oppure www.inespanessa.it ovviamente ci saranno risposte per tutti c'è la possibilità naturalmente anche di parlare privatamente con la dottoressa non c'è bisogno soltanto di venire in televisione e parlare c'è la dottoressa che è a vostra disposizione grazie dottoressa buona giornata e alla prossima puntata grazie grazie a tutti grazie a tutti